Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E' per quello che dicevo che forse l'avevo trollata, regga! Abbiamo l'ora! E' per quello che dicevo che forse l'avevo trollata, regga! Lingua del factos! Count con 200.000 bit dentro e poi c'è stavano gli streamer che si compravano gli account e si autodonavano in bit Ma è terribile sta cosa! No! C'è sgravato, zi! E' toppe involuzione! C'è le porte? C'è tipo quelli che se autodonano le cose con account fake delle maratone stendibili per farle tura di più Esattamente Breve! Ma oggi chi sei capo? Chi sei? Chi è quello? E' il pera sei tipo! Giammo io ti voglio bene, però... Porca troia! Oddio della puttana di tua madre! Ma perché è a random? Perché è a random? Quindi ora il reoscuro esce alla luce No, rimarrò sempre il reoscuro Non è che se fa pausa Blur quattro giorni allora è finita Guardate che Blur c'è la fidelizzazione della madonna Gli importa una bella sega di Dario Moccia ai fan di Blur Anche perché non hanno ancora licenza media E quindi è difficile per loro interfacciarsi a questa community Non riescono a capire l'inonia, le battute Per loro cacca e pupù è già la base Anche se in questo canale di cacca e pupù Se ne parla molto spesso Quindi ora il reoscuro esce Posso vedere cosa? Simulcrum, aborto e Filippo bentorni e benvenuti Penso che le uniche persone che potevano diventare dei meme Zitto! Potevano diventare dei meme Facendo solamente Ora dei raspatori palesemente Ma secondo me fa pure bene Perché onestamente il gioco dei spalletti È sempre stato un gioco molto veloce Così ma non ti dico che... Cioè spiotta però nel senso Magari per trama offensiva proprio Ti dà meno scelte Cioè ti dà più scelte Ma magari quelle che non... Almeno io da tifoso della Roma Ho visto quando lo spalletti allenava la Roma Poi magari certo lì cambia la rosa Però a me piace più i raspatori Nel senso in generale È uscito l'inters Grazie Silve Grazie ho capito Due e verano ci stanno se... Vediamo Fammi vedere Fammi vedere No potrebbe essere interessante Ok Non è male Mazza Oh guarda che è fatto bene Allucinante C'è sta pure l'orario... C'è sta pure l'orario... C'è anche l'orario provvisorio Questo in realtà Questo Nei miei diari non c'era Nei miei diari non c'era l'orario provvisorio Questo è Ivan Grieco Ivan Grieco Ivan Grieco Ivan Grieco Ivan Grieco Ivan Grieco Ah si Mi fai una cosa? Me lo ricompri pure per me Lo vuoi sto maialone Ah si Ivan Grieco così debotto Lo voglio riassaporà Rampage nel... nel box però Che dirò la... Oddio ma senti l'audio che è... Regà è ancora a me Regà? Manu! Manu! Siete scemi Manu! Sei pazzo... No 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 stai qua stai qua No tipo parlerà Parlerà regà non parla beh Non parla Non parla se alza a fine video Se fa così Sii Sii Si alza Fantastico Fantastico Incredibile il campo Grazie a tutti No, io adesso non mi muovo più da questa stanza, adesso io mi muoverò Guardando sempre giù per quello, per quello Per la finestra con la vecchia Adesso io non potrò mai più guardare la fotocopiatrice in maniera normale Perché anche in quel caso potrebbe essere un problema Mi sono messo difensore centrale Pablo, uomo grossissimo ma muscolosissimo Mi comincia a fare tutti i dribbli incontro Mi voleva saltare, lo fermo da fermo Cioè gli ho detto proprio stavo fermo Mi sono messo così, ho allungato la gamba e gli ho levato palla Uno da dietro mi fa, oh ammazza, proprio come MyCon Senza pensare che fossero effettivamente tutti i miei fan Però io suppongo che nessuno mi ha sentito di loro Fortunatamente Mi sono girato e gli ho fatto Non te permette mai più Di... Ritorna con la torcia Bro io non ho sentito i passi della tipa Ma sì, cilla, cilla Ma io non riesco a capire se sono allucinazioni o esistono Esistono Cioè voi li vedete Cioè prima quando mi stava mangiando la cavia lo vedevate voi Quello ha fatto un gol Quello ha fatto un gol su quel calcio d'angolo Che è nato Da... Da Chernobyl Vai Van Dijk, vai vai Sì no, Van Dijk, vai 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 Vuoi fare gol? Vai Van Dijk, fai gol Bravo Cioè, capisci? Capisci? C'è un problema di fondo Cioè ok che Van Dijk magari gli prende lì Bagnez Van Dijk è il best fan dei Bagnez Decide... Lui adora Adora, sì, andai in attacco Non ha senso comunque Nascondi quella bottiglia di Jack che se te la sgama sciuderone te la scola tutta e te se scopa anche la mamma Saluti da Perugia ZW Jackson nervosissimo Un ZW Jackson... Anzi io da oggi so der... Da oggi, io da ieri so der Milan Dwayne Johnson che te dice la formazione der Milan Mortacci loro C'hanno Lebron James che ci mette i sordi C'hanno quell'altro che ci mette i sordi Mui c'hanno come frontman Dwayne Johnson Io sì, il mio cuore Il mio cuore è sempre stato rosso nero Altro che... Nervosissimo, non da lui E al 27esimo del secondo tempo 2-0 per 2-give Ma per 2-give in 10 Per questa pazzia All'Arlando Piano La manata più bella di sempre Ma come se sta a tenere? Piano No regà, allora Regà Ci vado con la mano Se scivola Sotto c'è la ciabatta La premo e spenge la live Per forza Ci vado con la mano Oh Dio Oh Dio Oh Dio Madre Madre Ma Non vuole più far parte Di questo mondo Ma le chiamate che fa? Sono chiamate